Massima attenzione a Sassano per l'aumento dei contagi. Per questo motivo il sindaco Domenico Rubino, che tra l'altro ricordiamo è stato anche il coordinatore del reparto Covid dello spaldale Luigi Curto di Polla durante la prima ondata, ha deciso di chiudere fino al prossimo 8 agosto la villa comunale. Non solo, vietati anche gli eventi musicali nei luoghi pubblici, un modo per contrastare l'aumento dei positivi. In questo momento a Sassano sono 25 le persone contagiate dal Covid-19, frutto di una cerimonia e per questo motivo anche altre cerimonie nei prossimi giorni sono state annullate. Non è più Covid-free il comune di Caggiano, infatti una persona risultata positiva e ancora attesa a Polla per i tamponi di alcune persone che sono state a contatto con contagiati. La situazione nel Vallo di Diano quindi resta sotto osservazione la notizia buona e che per fortuna non ci sono ospedalizzati.